Dopo un lungo inverno, la stagione turistica è ormai alle porte. In Calabria, ai problemi atavici, si aggiungono quelli legati alla pandemia e alla guerra tra Ucraina e Russia. Quest'ultima, anticipano gli esperti, farà registrare una notevole battuta di arresto nelle presenze legate a tutta la zona dell'Europa dell'Est. Di questo e di altro ne abbiamo discusso con Dino De Santo, presidente di Confesercenti Provinciale Cosenza, che a pochissimi giorni dall'apertura delle frontiere si è espresso in tal senso, anticipando l'appuntamento con gli stati generali per decidere le sorti di tutto il comparto turistico. Sono due anni che noi ci siamo abituati ad avere un turismo legato al cosiddetto turismo con termini o di vicinanza, nel senso che il posto che hanno lasciato liberi i turisti stranieri in questi due anni sono stato occupato dai turisti italiani. Per cui alla fine dell'anno noi abbiamo trovato sostanzialmente le stesse cifre. Nel momento in cui il primo di aprile si apriranno le frontiere, noi siamo ben felice che finalmente si apriranno i canali di fruizione su tutta l'Europa, anche fuori dall'Europa. In questa situazione riusciremo a riportare qui da noi i turisti stranieri che erano comunque abituati alla nostra tipologia di prodotto turistico? Questa è la domanda. Alla fine della prossima settimana ci saranno gli stati generali del turismo presso la regione Calabria e noi lì porremo questo tema, come poter accelerare in maniera seria e concreta le iniziative di marketing per fare in modo che questi vuoti che naturalmente ci saranno possono essere riempiti appunto con presenze forti di altre nazioni che meno problemi hanno.